Continua in Toscana il trend di ascesa dei positivi al coronavirus in età scolare, fino agli 11 anni nella fascia fino a oggi esclusa dal vaccino, con 126 casi solo nella giornata di ieri, contro i 98 di martedì e i 56 di lunedì. Con l'approvazione di AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, alla somministrazione del siero Pfizer e i bambini dai 5 agli 11 anni, la Toscana si organizza a vaccinare i più piccoli, un piano già pronto che si innesta su quello delle terze dosi. Gli effetti indesiderati più comuni nei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni ai quali è stato somministrato il vaccino Pfizer-BioNTech sono simili a quelli riscontrati nelle persone di età pari o superiore a 12 anni e includono il dolore al sito di iniezione, stanchezza, mal di testa, arrossamento e gonfiore al braccio, dolori muscolari e brividi. Ha precisato l'Agenzia Europea per i Medicinali, l'EMA, che per prima ha dato parere positivo al vaccino per i più piccoli, effetti generalmente lievi o moderati che migliorano entro pochi giorni dalla vaccinazione, hanno garantito gli esperti che ribadiscono come i benefici nei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni superino i rischi, in particolare in quelli con condizioni che aumentano il rischio di una forma grave di Covid-19.